Il Barcellona è riuscito a produrre una qualità e un'intensità di gioco incredibili e noi dovremo assolutamente essere in grado di replicarlo per l'intera durata della gara, senza flessioni e riuscendo a distribuire responsabilità su tutta la squadra. Non è stata una settimana semplice di preparazione, complice le assenze, ma c'è forte motivazione nei ragazzi per potersi mettere alla prova in un contesto così importante e così affascinante.